la app immuni diventa un caso politico ricci contro la linea acquaroli la guardia di finanza smaschera un furbetto del reddito di cittadinanza arrestato a rimini responsabile dell'accoltellamento al 21enne moldavo le classi quinte del marconi invocano il ripristino delle elezioni in presenza buona serata questo è il telegiornale di giovedì 8 ottobre come sempre le informazioni sul canale 633 questa sera apriamo parlando delle tematiche relative al coronavirus e in modo particolare dell'applicazione immuni che rischia di diventare davvero un caso politico il neo governatore francesco acquaroli intervenuto a rai news 24 ha infatti ammesso di non avere scaricato l'app immuni ridimensionandone l'utilità se non la scaricano tutti ma enfatizzando altre precauzioni quali distanziamento sociale e mascherine l'app immuni è stata finora scaricata da quasi 200 mila marchigiani tra cui il sindaco di pesaro matteo ricci che oggi attraverso i suoi canali social ha pubblicamente dissentito dalle esternazioni di acquaroni enfatizzando come l'utilità dell'app vada equiparata per importanza alle altre norme comportamentali di contenimento e ha invitato il nuovo presidente di regione a correggere la comunicazione sollecitando invece i marchigiani a scaricarla come stanno chiedendo le autorità sanitarie e continuiamo parlando di coronavirus in questo spazio vediamo la comunicazione dei dati relativi appunto alla pandemia in regione perché dopo il balzo in avanti di 84 nuovi contagi registrati ieri oggi la curva decresce a 66 nuovi casi positivi la maggior parte dei quali concentrati nelle province di fermo e ascoli piceno con rispettivamente 24 e 20 nuovi casi di contagi ben più contenuta la crescita nella provincia di pesaro urbino dove si sono registrati per fortuna solo tre casi non ha dichiarato 170 mila euro ed era pure riuscito a percepire il reddito di cittadinanza nel prossimo servizio vi raccontiamo la vicenda di questo furbetto smascherato dalla guardia di finanza di pesaro per due anni ha ricevuto il reddito di cittadinanza senza averne diritto la compagnia di pesaro della guardia di finanza ha smascherato un furbetto del sussidio residente nel territorio pesarese che nelle 2019 e nel 2020 ha indebitamente percepito la formula statale di sostegno destinata alle persone senza lavoro e in reale difficoltà economica attraverso un'attività capillare di controllo le fiamme gialle hanno scoperto una situazione patrimoniale al di sopra dei limiti previsti dalla legge il soggetto in questione aveva infatti racimolato discrete somme attraverso delle vincite online al gioco cioè 60.663 euro nel 2019 e 111.136 euro nel 2020 un totale di oltre 170.000 euro che il furbetto ha deliberatamente omesso dal calcolo dell'isee durante la dichiarazione sostitutiva unica non dichiarando le vincite il furbetto è dunque riuscito a incassare il reddito di cittadinanza per due anni per un importo complessivo di 12.700 euro furbetto che è stato dunque segnalato dalla guardia di finanza alla procura della repubblica di pesaro per aver indebitamente percepito erogazioni a danno dello stato contestualmente è stato segnalato anche all'inps per il blocco dell'erogazione e le procedure per il recupero dell'indebito incassato e adesso continuiamo con la cronaca perché è stato arrestato il responsabile delle due coltellate che hanno ferito un 21enne moldavo nel corso di una festa privata avvenuta a pesaro in strada dei condotti non lontano dal quartiere muraglia i responsabili dell'aggressione individuati dalla squadra mobile di pesaro sono tre ragazzi di origini campane residenti nel riminese vagliando le testimonianze si è giunti anche all'individuazione di chi ha materialmente affondato la lama nella schiena del giovane moldavo si tratta di luigi de santis 18 anni che è stato arrestato ieri sera dalla squadra mobile di pesaro nella sua casa di rimini il 18enne è stato trasferito nel carcere della città romagnola e lunedì si terrà l'interrogatorio di garanzia e continuiamo perché c'è stato un arresto per droga a pesaro un 19enne è stato sorpreso dalla polizia in zona muraglia con ben 44 dosi di hashish per un peso di 25 grammi sul ragazzo gravavano già diversi precedenti tra i quali l'arresto di appena 20 giorni prima per spaccio di 10 grammi di cocaina nuovamente arrestato gli è stata inflitta la condanna di 10 mesi di reclusione e 1400 euro di multa l'ex questore di pesaro antonio lauriola è stato condannato a due anni dal tribunale di rimini per tentata induzione e falso mentre è stato prosciolto dall'accusa di peculato la sentenza conclude una vicenda che risale al 2016 periodo in cui lauriola fu accusato di aver fatto pressioni per annullare una multa di 3500 euro al figlio le sue frasi furono registrate da un funzionario di polizia finirono sui tavoli della procura e ora hanno portato alla condanna del tribunale di rimini ed ora andiamo a parlare di scuola perché si è tenuta proprio questa mattina al liceo scientifico marconi di pesaro una manifestazione degli studenti di quinta superiore per invocare il ripristino della didattica tradizionale anziché metà in presenza e metà a distanza perlomeno proprio in questo anno fondamentale di crescita e soprattutto di studio vediamo il servizio ascoltateci una alternativa esiste una scritta eloquente quella su uno striscione affisso qui al liceo scientifico marconi dagli studenti delle quinte del liceo che sono schierati qui alle mie spalle seduti nel parcheggio per chiedere una cosa per chiedere di ripristinare la didattica tradizionale almeno per quel che riguarda il quinto anno delle superiori un quinto anno ritenuto talmente strategico da non potersi permettere l'attuale sistema didattico in tempo di covid ovvero quello con metà alunni in presenza e metà alunni a distanza dunque si chiede la didattica tradizionale la si chiede attraverso questa manifestazione che vuole dimostrare anche come sia possibile essere una classe ma farlo nella maniera più corretta in tempo di covid ovvero distanziati e tutti con la mascherina è comprensibile la loro protesta in parte sono con loro l'esigenza di fare scuola in presenza è anche la mia esigenza però il problema è sotto gli occhi di tutti c'è un aumento del contagio non mi sembra che sia opportuno in questo momento abbassare la guardia si è arrivati a questa giornata con che tipo di confronto tra dirigenza scolastica e studenti quello semplice i ragazzi avevano manifestato la loro opinione le loro difficoltà attraverso i rappresentanti di istituto io ho risposto loro e loro giustamente hanno pensato di fare questa assemblea per informare anche il resto delle quinte il resto delle ragazze delle quinte quindi ad oggi le speranze di questo ripristino della didattica tradizionale sono poche secondo me sono poche purtroppo quello che i dati che ci stanno arrivando non sono confortanti noi abbiamo sperimentato che questo distanziamento sociale che va oltre a quello che è stato che sono i limiti dittati dai decreti ministeriali di un metro noi abbiamo dentro le nostre classi una distanza sociale di oltre due metri ci hanno consentito consentito ad esempio di non propagare il caso covid che abbiamo avuto nel senso noi abbiamo avuto un ragazzo di prima positivo che è stato tre giorni in classe con un gruppo ristretto e non ha contagiato tutti gli altri perché tutti gli altri al tampone sono risultati negativi questo ci dimostra che il nostro le nostre precauzioni il nostro distanziamento sociale è efficace io credo che in una scuola come questa anziché avere mille studenti averne 500 lo capiscono tutti che il rischio si abbatte di gran lunga noi stiamo chiedendo di con i dovuti adattamenti con le dovute modifiche delle classi essenzialmente di permettere a tutti gli studenti delle quinte di avere una totale esperienza didattica in presenza per appunto far fronte a quello che è l'esame di maturità che quest'anno a differenza dell'anno scorso per esempio comporterà anche le prove scritte non sarà una una forma diciamo di mezzata sarà un esame di maturità completo e quindi al nostro avviso la la preparazione deve essere completa per gli studenti quindi abbiamo ideato un piano con 15 classi chiamiamole speciali particolari più grandi che possono accogliere più studenti che sono presenti nella scuola e chiediamo essenzialmente al preside di andarle a modificare per appunto poter ospitare tutti gli studenti comunque mantenendo le norme anti covid come abbiamo fatto nella manifestazione di oggi sono state rispettate le distanze tutti gli studenti hanno portato le mascherine quindi già a nostro avviso questo è una grande dimostrazione che da parte nostra c'è l'impegno da parte nostra c'è c'è una proposta proposta che non c'è da parte della dirigenza dell'istituzione che essenzialmente ci ha ignorato cioè quella che ha dato il preside oggi è stata la prima vera risposta a tutti gli studenti quello che è stato fatto da parte sua è parlare in privato soltanto con alcuni studenti cosa che mi avviso non è non è giusta e c'è stata la mancanza di un vero e proprio dialogo con tutte le quinte con tutti gli studenti quindi c'è proprio di nuovo la dimostrazione che l'istituzione scolastica è molto lontana dagli studenti sfortunatamente in quest'ultimo periodo Ed ora ci spostiamo a Fano dove nei giorni scorsi un noto imprenditore ha ricevuto una cartella per il pagamento dell'Atare di oltre 260.000 euro un duro colpo chiaramente per l'azienda come ci racconta Simone Celli in questo prossimo servizio 267.333 euro ecco a quanto ammonta la cartella per lo smaltimento dei rifiuti ricevuta da Duiglio Signoretti titolare insieme ad altri soci dell'ex di Almarmi oggi nota come Iconci una nuova stangata Tari dunque che questa volta va a colpire un'importante azienda fanese molto conosciuta a livello mondiale soprattutto nel settore del lusso l'importo comprende gli arretrati dal 2015 a oggi un salasso che potrebbe mettere a rischio l'azienda stessa per la quale lavorano ben 38 dipendenti per me è stata una mazzata che io credo che non devo pagare questa anzi secondo le regole, secondo le leggi che sono andato anche a vedere non è da pagare ma non solo avevo chiesto al comune un anno, un anno e mezzo prima che venissero questi a fare un giro qui dentro per dare una controllata mi hanno detto, hanno controllato così per vedere se quello che era nel contratto vecchio era giusto e io se ero andato già in comune per abbassare queste rigute perché a me tra Tari, tra Imo e tutto pago oltre 30 mila euro all'anno io faccio circa 3 milioni, 3 milioni e 2, 3 milioni e 3 dipende dagli anni quest'anno non so se raggiungiamo neanche i 3 milioni di euro di fatturato perciò il tutto mi viene fuori circa l'1% solo di Tari e Imo perciò con 38 persone qua che stiamo arrivando alla fine del mese sempre con l'acqua alla gola e poi e poi tante volte non prendo neanche stipendio io per poter pagare gli operai usufrendo anche della cassa integrazione questi ci vogliono far chiudere per me questa è la mazzata finale delle nostre aziende io non ce la faccio più e ho voglia di andare in comune portare le chiavi e dico venite a lavorare voi perché io ho 76 anni ancora sono qui a Giannare l'ho tenuta in piedi forzatamente combattendo con le banche perché non so non ho fatto di più e di tutto anche oggi ho bisogno di finanziamenti per poter rimodernare la fabbrica che si è invecchiata di 10-15 anni e le banche purtroppo dicono no non possiamo perché tanti motivi non lo so insomma siamo ancora qua era già un momento complicato per via del covid? sì ossia il momento complicato è arrivato già dal 2008 quando è arrivata la crisi abbiamo avuto un calo del 50% di fatturato in quell'anno lì però ce l'abbiamo sopportato siamo riusciti ad arrivare alla fine dell'anno scorso con un leggero aumento pensando dico ma il 2020 dovremmo andare meglio invece poi è arrivato il covid ci ha dato un'altra mazzata perciò il fatturato invece di aumentare è diminuito anche quest'anno perciò anche se vorremmo non riusciremo mai a pagare queste cose qui non riusciremo mai se qualcosa non cambierà chi ne sarà dell'azienda e chi ne sarà dei dipendenti? i dipendenti tutt'oggi per farli lavorare cerco di lavorare anche del materiale da mettere a magazzino pensando sempre al futuro che il lavoro cambi però se continua così logicamente prima usufruiremo della cassa integrazione se ancora ci danno un po' di cassa integrazione e altrimenti non lo so non so più quello che devo fare non lo so come lo posso chiamare per me sono furti legalizzati furti legalizzati non ci possono tirare, 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 tirare sempre raccogliere da chi fa fatica per poter tenere in piedi un'azienda e poi mandarci questi ci portano via tutto pulito pulito io non ho questi soldi le cartelle degli anni indietro noi abbiamo dovuto rateizzarle perché non ce le facciamo pagare quelli lì da 30 mila euro l'anno li hanno rateizzati per 3 o 4 anni e adesso ci arriva anche questa non so cosa dobbiamo fare e in merito alla questione della Tari nel comune di Fanno c'è arrivata adesso una comunicazione da parte dell'amministrazione comunale in merito proprio alle cartelle Tari emesse ad ottobre 2020 l'amministrazione rassicura che l'attività del concessionario è monitorata dall'ufficio tributi comunali è precisa che il percorso circa l'attività accertativa è stato condiviso sin dall'inizio con tutte le associazioni di categoria i sopralluoghi dettagliati al fine dell'individuazione delle specifiche aree produttive sono stati effettuati alla presenza dei proprietari delle aziende e solo quando c'è stata la disponibilità dei proprietari ad essere presenti si è proceduto tramite accertamenti induttivi con l'ausilio delle piantine catastali il comune di Fanno ha destinato oltre un milione di euro dal proprio bilancio per contributi Tari e Tosap post-covid a favore delle attività produttive abbiamo sempre vigilato e lo faremo dicono appunto gli amministratori anche ora affinché l'attività accertativa condotta dal concessionario avvenga nel modo più corretto garantendo la rettifica di eventuali criticità laddove ce ne fossero in ragione di ciò martedì 13 ottobre l'amministrazione comunale di Fanno ha convocato nuovamente tutte le associazioni di categoria per ogni ulteriore ed utile confronto sul tema saranno 80 i piloti a partecipare alla terza riedizione della Coppa Faro la suggestiva competizione automobilistica che da tre anni rispolvera i fasti di una rassegna sul San Bartolo che affonda pensate le radici negli lontani anni 70 edizione che è stata presentata oggi nel Comune di Pesaro e che ci viene illustrata dall'idiatore della Coppa Faro Alessandro Rinolfi ma anche dall'assessore al Comune di Pesaro Mila della Dora Sì, terzo anno stiamo ripartendo fortunatamente siamo riusciti a fare ripartire questa cosa le difficoltà quest'anno non sono state poche perché chiaramente le cose a cui si deve ottemperare giustamente sono tante ed è opportuno farlo a cominciare dal fatto che il paddock era una zona inibita e non addetti ai lavori mentre gli altri anni il paddock era una zona aperta e poi cosa ancora però chiaramente poi dall'esterno si può visionare si può vedere chiaramente in una maniera intelligente senza fare assembramenti senza mettersi troppo vicino perché bisogna essere molto prudenti per quanto riguarda la manifestazione diciamo che ricalca lo schema degli altri anni quest'anno come partecipanti diciamo siamo stati anche un po' premiati nel senso perché abbiamo più di 80 partecipanti poco leggermente sopra e rispetto ad altre gare l'ultima 15 giorni fa che era una gara di campionato europeo dove c'erano solitamente 190-200 macchine siamo arrivati a la domenica scorsa a questa gara che ho anche partecipato eravamo mi sembra 102 macchine mentre noi l'anno scorso eravamo 78 macchine quest'anno non siamo cresciuti e per cui insomma ecco siamo abbastanza soddisfatti ma soprattutto diciamo questa manifestazione, questa gara vuole essere un qualche cosa non fine a se stessa cioè vuole essere un qualche cosa che diciamo porti un qualche cosa alla città, alla comunità e in questo senso diciamo si rivolge sia al sociale e sia diciamo anche sotto un profilo economico perché alla fine queste persone che arrivano sono 80-82 vetture per cui minimo sono 300 persone 400 persone globalmente fra meccanici, accompagnatori mogli e quant'altro per cui vuol dire vendere un qualche cosa nelle tre giornate un qualche cosa come 400-450 camere complessivamente per cui diciamo è un piccolo contributo un piccolo aiuto alla città e soprattutto agli abbergatori in quel senso e non da ultimo sinceramente anche un po' di promozione alla città che chiaramente la nostra città ha tante bellissime cose che cerchiamo anche nel sito se leva nel sito vede che ci sono tante iniziative di proposte e quant'altro e hanno riscontrato diciamo abbastanza successo poi le dicevo nel sociale cerchiamo di contribuire di dare un piccolo contributo all'Unicef che fra l'altro ci patrocinia un contributo anche alla nazionale pallacanestro sorde cerchiamo di fare questo meglio per quanto riguarda l'ente parco l'anno scorso per esempio abbiamo donato all'ente parco quattro fototrappole richiesteci da loro per la selvaggina selvatica per diciamo monitorare soprattutto i cinghiali quest'anno sotto il profilo cercheremo di contribuire all'acquisto e anche questo credo sia molto molto importante ci tengo a sottolinearlo di telecamere con diciamo con la possibilità di visionare e sentire eventuali diciamo possibili incendi per cui saranno telecamere con rilevamento dei fumi e questo è quello che faremo quest'anno per l'ente parco per cui diciamo cerchiamo di impegnarci cerchiamo di darci da fare anche sotto questo profilo è una bella soddisfazione anche perché andiamo a valorizzare ancora quello che è il patrimonio e la storia automobilistica storica e motociclistica della nostra città già insomma è qualche anno che abbiamo costituito l'associazione terra piloti e motori che serve anche a questo a promuovere quelle che sono queste iniziative questa era una vecchia competizione che si svolgeva negli anni 50 in quelli che sono uno dei luoghi più affascinanti della nostra città che è la strada panoramica San Bartolo abbiamo tante persone che si sono già iscritte circa 80 ma sicuramente la priorità sarà la sicurezza quindi verrà svolta tutta la manifestazione in sicurezza lo sport non si deve fermare lo sport ha un grande valore sociale come questa competizione sicuramente serve anche ad attrarre tante persone nella nostra città in questi anni abbiamo puntato molto su quella che è la vocazione sportiva della nostra città turistica e quindi ne andiamo orgogliosi Novità in vista per quanto riguarda la raccolta differenziata nei quartieri di Borgo Santa Maria Pozzo Alto case bruciate e tre ponti da lunedì 19 ottobre ci sarà un nuovo servizio che mira a ridurre al minimo la quantità di rifiuti non recuperabili ed aumentare la quota di raccolta differenziata per questo motivo i cassetti stradali per l'indifferenziato saranno rimossi e sostituiti con bidoni di piccole dimensioni che saranno consegnati ai cittadini e raccolti direttamente presso il domicilio degli utenti una volta la settimana nei giorni che saranno indicati in un apposito calendario Unione di intenti fra le città d'amore Verona città di Romè e Giulietta e Gradara città di Paolo e Francesca le due coppie diamanti si sono idealmente incontrate lunedì nella città Veneta in un momento di confronto fra le due amministrazioni lo scopo del viaggio ha spiegato il sindaco di Gradara Filippo Gasperi è stato quello di condividere delle strategie comuni per la valorizzazione di entrambi i territori una sinergia che punta a far nascere importanti progetti condivisi domenica arriva Pesaro nonno ascoltami l'ospedale in piazza si tratta di una campagna di controlli gratuiti dell'udito promossa dall'omonima Onlus che per l'undicesimo anno consecutivo porta il tema della prevenzione dei disturbi uditivi in tutta Italia appuntamento quindi domenica 11 ottobre in piazza della Libertà dalle 10 alle 18 insieme a medici specialisti e tecnici dell'udito che per un'intera giornata saranno a disposizione dei cittadini da venerdì a lunedì nelle piazze della provincia di Pesaro Urbino ma anche nelle parrocchie nei supermercati si potranno acquistare i ciclamini della solidarietà della fondazione Ant le offerte per i ciclamini sosterranno le visite di prevenzione oncologica e l'assistenza medica domiciliare fornita dall'associazione nazionale Tumori quest'anno attenendosi alle prevenzioni da Covid-19 le piantine si potranno anche ordinare per poi essere ricevute a casa scrivendo a daniela.mengacci chiocciolahant.it o telefonando ai numeri che vedete in sovrimpressione in questo momento come vedete un numero fisso ma c'è anche un numero di cellulare a Pesaro in piazza del popolo torna per tutto questo weekend il mercatino regionale francese da Parigi alla Costa Azzurra arriveranno tipicità d'oltralpe come 80 diversi tipi di formaggio ma anche biscotti dolciumi vini e naturalmente le baguette non solo prodotti agroalimentari ma anche essenze lavanda e saponi artigianali e a Senigallia da domani venerdì 9 ottobre fino a domenica 11 ottobre il foro annonario ospiterà l'undicesima edizione di Sapori d'autunno si tratta del mercatino autunnale dedicato ai prodotti tipici marchigiani all'interno dell'ex pescheria troveranno spazio 12 banchi di tipicità del territorio mentre esternamente l'area sarà dedicata a prodotti agroalimentari nazionali artigianato e anche erboristerie i tanti di voi che solitamente seguono la nostra rassegna stampa del mattino vi ricordo in diretta alle 7.20 avranno notato che oltre ai quotidiani consueti che leggiamo abbiamo introdotto anche la lettura di un nuovo settimanale si chiama Il Menestrello del Metauro una pubblicazione ventennale per il territorio metaurense che ora riparte con una nuova veste grafica ed editoriale come ci spiega appunto il direttore responsabile Roberto Giungi La nuova edizione del Menestrello che prosegue una tradizione ormai ventennale è avvenuta grazie ad una serie di circostanze positive nel senso che si è presentato un editore che in collaborazione con la tipografia ideostampa di Alfio Magnesi ha consentito un potenziamento di questo giornale locale che in precedenza era in bianco e nero adesso ha potenziato le pagine ha potenziato i settori di intervento copre un'area molto più vasta ha una distribuzione capillare di 5.000 copie e quindi copre l'intera ballata del Metauro è assurdo ad un ruolo che noi riteniamo abbastanza importante perché come ribadisco dopo 20 anni o si moriva in quanto la tipografia che lo editava in precedenza ha chiuso oppure riprendeva sotto Nuova Veste e questo è stato un piccolo grande miracolo che si è verificato il 73esimo festival d'arte drammatica entra nel vivo alzando il sipario sulle otto compagnie in corso al GAD sul premio Conti e anche sul libro di Claudio Sora presentato ieri presso il comune di Pesaro Cari pagliacci del teatro Accademia di Pesaro e il malato immaginario della filodrammatica di Gardolo hanno già aperto la rassegna GAD Festival ragazzi ora si alza anche il sipario del teatro Rossini sul 73esimo festival nazionale d'arte drammatica pronto a partire con gli otto spettacoli di altrettante compagnie in concorso si comincia il 15 ottobre con il tavolo verde di Nadia Bruno in una rassegna non stop fino al 24 ottobre una full immersion impreziosita dalla terza edizione del premio drammaturgico Antonio Conti dedicato alla scrittura teatrale siamo molto felici di avere dato anche l'avvio ufficiale a questa 73esima edizione del festival che aveva avuto già un prologo con alcuni appuntamenti il GAD Festival ragazzi alcune conferenze ma oggi di fatto si dà il via ufficiale a quella che è la parte più robusta del cartellone cioè il concorso e il concorso che si terrà al teatro Rossini otto spettacoli in concorso due fuori concorso di due compagnie pesaresi tutti i giorni a teatro quindi quest'anno un festival da veri atleti tutte le sere a teatro dal 15 ottobre fino al 24 ottobre il 25 le premiazioni e anche uno spettacolo alla Chiesa dell'Annunziata il raccolto il copione vincitore della prima edizione del premio Conti quindi ripeto un festival da veri atleti dieci giorni a teatro consecutivi quest'anno è un anno particolare per il premio Antonio Conti perché riusciremo ad avere nello stesso anno la messa in scena del testo che ha vinto la prima edizione il raccolto di Giorgia Brusco poi avremo la premiazione della seconda edizione la codista di Marlene Scholten e il lancio della terza edizione la terza edizione ha una particolarità perché abbiamo voluto aumentare le sezioni in concorso per cui avremo una sezione dedicata ai testi mai rappresentati una seconda sezione ai mai rappresentati Under 35 e una edizione terza che sarà quella dedicata ai testi rappresentati intanto il festival GAD presso il comune di Pesaro ha anche presentato il libro di Claudio Sora Aneddoti dietro le quinte dove sono svelati avventure e esperienze racchiusi in brevi racconti dell'attore e ceramista pesarese un libro presentato anche attraverso un filmato documentario sulla vita di Sora realizzato da Giorgio Ricci Il libro poi è stato creato attraverso la raccolta di fotografie a destra e a manca ma selezionate comunque da Claudio e attraverso la stesura al computer di documenti da parte di amici e conoscenti e alla fine siamo riusciti a mettere insieme davvero un testo comunque che vive la sua vita autonoma un testo di racconti di aneddoti dietro le quinte come dice il titolo e c'è un corredo iconografico molto bello moltissime fotografie storiche con attori famosi che hanno vissuto con lui la gioia del palcoscenico e abbiamo aggiunto un capitoletto sui suoi anni alla direzione del Festival Nazionale d'Arte Drammatica il Festival dei GAD per i pesaresi di cui lui è stato direttore artistico per una dozzina d'anni insieme al suo presidente che ero io quindi abbiamo cominciato assieme quindi insieme siamo andati alla scoperta di tutte le compagnie italiane le abbiamo conosciute le abbiamo apprezzate ci siamo ritrovati con le compagnie festival dopo festival e le abbiamo festeggiati in occasione dei nostri incontri Claudio ci teneva tantissimo a questi a questi nostri incontri con le compagnie soprattutto con questi attori amatoriali come diciamo non professionisti quindi infermieri impiegati di banca o impiegati di amministrazioni pubbliche che dopo aver passato una giornata di lavoro si ritrovano la sera a recitare su un palcoscenico per far rivivere i personaggi del teatro e attraverso questi incontri Claudio viveva e riviveva ancora una volta le sue grandi giornate celebri con gli attori famosi sui palcoscenici di tutta Italia e concludiamo questa edizione del nostro telegiornale dandovi degli aggiornamenti riguardanti lo sport infatti il caso positivo al covid-19 riscontrato ieri nello staff della Vispesaro si è rivelato un falso positivo e dopo aver effettuato un altro giro di tamponi la squadra bianco-rossa è regolarmente partita oggi alla volta di Ravenna dove questa sera alle 20.45 affronterà i romagnoli nel turno infrasettimanale valevole per la terza giornata di campionato turno previsto ieri ma posticipato di un giorno per appurare l'evoluzione del caso di covid la Vis cerca riscatto dopo la sconfitta di Modena ma dovrà vedersela con un Ravenna affamato di punti dopo aver patito due sconfitte su due partite la Vis ha intanto ufficializzato oggi l'ingaggio del terzino sinistro classe 1998 Federico Giraudo reduce da tre stagioni consecutive da titolare in Serie C e con le maglie di Vicenza Ternana e Cesena per Giraudo un contratto biennale con la Vis fino al 30 giugno 2022 ieri è invece già sceso in campo il Fano per la terza giornata e la squadra Granata ha ottenuto un pareggio 0 a 0 in trasferta con il Carpi per l'Alma è il terzo pareggio su altrettante partite giocate e allora adesso andiamo ad annunciarvi quella che sarà la prima serata su Rossini TV questa sera alle 21.15 un nuovo appuntamento per avvicinarci al Festival GAD quindi verso il Festival vi faremo vedere integralmente questo spettacolo meraviglioso l'Anatra all'arancia e poi vi ricordo anche che domani sera è venerdì e alle ore 21 registreremo la prima puntata di White Dog questo bellissimo programma format TV targato Rossini TV dedicato alla musica e allora vi aspettiamo prenotate il vostro posto perché domani sera le nostre telecamere saranno al Caffè della fortuna a Morciola di Vallefoglia e a suonare ci sarà il trio Caos non perdetevi questo appuntamento mi raccomando prenotate il vostro posto e vi aspettiamo lì e poi sabato invece alle ore 10 in diretta su Rossini TV canale 633 potete avere il piacere di vedere la prima giornata di campionato al Pala Cotonella a Salsomaggiore Terme dove Little Service Pesaro incontrerà il Mantova grazie per averci seguito anche questa sera adesso il meteo e poi l'appuntamento domani mattina con la rassegna stampa